Cari amici di Fede Cultura, sono qui per augurarvi una buona festa di tutti i santi. Noi cristiani, noi cattolici festeggiamo tutti i santi perché sappiamo che il loro esempio, la loro vita, la loro esperienza, le loro sofferenze, ma soprattutto il loro amore per Gesù Cristo che li ha spinti anche a forme eroiche di donazione per il Signore, per il prossimo, sono un esempio che ci sprona sulla via dell'imitazione di Cristo. Noi non siamo protestanti che mettiamo da parte i santi credendo che siano inutili, noi sappiamo che sono molto utili e ci aspettano in cielo, fanno il tifo per noi e imitando loro noi ci incamminiamo sulla via dell'imitazione di Cristo, quindi sono davvero molto utili. Anche perché vedete spesso si dimentica che essere come Cristo non è uguale per ogni persona. Ovvio che una mamma con bambini ha un modo di vivere la propria imitazione di Cristo diversa dal monaco, dall'eremita, dal capitano dell'industria o altre cose di questo genere, ma ciascuno di noi è chiamato alla santità e abbiamo una schiera enorme di santi ai quali possiamo chiedere l'intergestione, ai quali guardare anche come esempi, perché ce n'è veramente di tutte le sorte, di tutte le sorte, diciamo così, per correre la nostra via personale di santità, che non è quello che noi vogliamo, ma quello che Dio ha preparato per noi, che poi è anche la nostra felicità. Oggi purtroppo anche in chiesa spesso ci si dimentica di queste cose, addirittura ci sono le parrocchie dove si festeggia Halloween, una cosa abominevole, c'è la festa di tutti i diavoli invece che di tutti i santi, e ci si dimentica soprattutto di annunciare che siamo chiamati alla vita eterna, che siamo chiamati a essere santi. Quante volte sento dire, ah ma io non sono un santo, ma come non sei un santo? Tu sei stato battezzato, tu hai ricevuto la cresima, sei stato chiamato, predestinato per il sangue di Cristo ad essere santo, non rinunciare così leggermente a questa chiamata meravigliosa. Tu sei santo perché Dio ha voluto abitare dentro di te con la sua grazia, con la cresima, con i sacramenti, non cacciarlo via. Allora io vi auguro davvero, cari amici, di diventare santi, di voler essere santi, di cercare questa santità con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze. E insieme anche attraverso una sana cultura, una sana educazione a una buona spiritualità cristiana, che è quello di cui oggi più che mai c'è bisogno possiamo diventarlo. Ecco, vi presento, qui con noi c'è il nostro amico che voi tutti conoscete, Gaetano Masciullo, che oggi farà con noi e per noi un commento al Vangelo proprio della liturgia di tutti i santi, che è un Vangelo che ci chiama proprio a percorrere questa grande via nella quale tutti noi troveremo quella gioia che è poi il desiderio profondo del cuore di ogni uomo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Carissimi amici di Fede Cultura, Allora, ben trovati a questo nostro appuntamento e auguri anche da parte mia di Santità. Oggi è una delle solennità più importanti del calendario liturgico cattolico ed è una di quelle occasioni in cui, diciamo così, il calendario tradizionale e il calendario novusordo della liturgia romana si trovano concordi. Però noi vogliamo prendere ancora una volta in mano la nostra copia del messale festivo tradizionale su morum pontificum che raccoglie il proprium, cioè le preghiere e le letture proprie appunto delle feste e delle solennità e andiamo a pagina 499 dove troviamo il Vangelo proclamato dalla Chiesa quest'oggi, festa di tutti i Santi. Il brano di Vangelo è una sequenza tratta dal Vangelo secondo Matteo, siamo al capitolo 5 dai versetti 1 a 12. Leggo nella traduzione italiana In quel tempo Gesù, vedendo le folle, salì sulla montagna e sedutosi gli si avvicinarono i suoi discepoli. Prendendo allora la parola, istruiva loro dicendo Beati i puri di cuore perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per causa della giustizia perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi Per causa mia, tra allegratevi ed esultate perché grande è la vostra ricompensa i cieli. Ecco, questo brano del Vangelo secondo Matteo è il famoso brano delle Beatitudini. Perché la Chiesa sceglie proprio questo brano in questa festa di tutti i Santi? Per capirlo dobbiamo capire che cosa significa diventare santi. Sicuramente essere dei buoni cristiani significa, come abbiamo ripetuto innumerevoli volte, significa vivere in grazia di Dio. E per conservare la grazia di Dio bisogna osservare i dieci comandamenti, i cinque precetti generali della Chiesa, bisogna vivere nella preghiera, nella penitenza, ma tutto questo, diciamo così, non basta. Altra cosa molto importante è vivere i sacramenti, in particolare il sacramento della confessione e il sacramento dell'Eucaristia, ma tutto questo non basta. Diciamo che tutte queste cose stanno alla santità un po' come le scuole elementari, stanno all'uomo adulto. Ricordiamo che ogni volta che commettiamo un peccato mortale, cacciamo lo Spirito Santo dalla nostra anima. La nostra anima, il nostro corpo in realtà, tutto il nostro essere, come dice San Paolo, è chiamato ad essere tempio, tempio dello Spirito Santo, tabernacolo. Ma il peccato mortale caccia il padrone di casa e insedia al suo posto il diavolo. E con il diavolo evidentemente la morte e tutte le passioni negative che ci fanno sprofondare ancora di più nel male e nella tristezza, fino ad arrivare, Dio non voglia nei peggiori dei casi, alla disperazione. Quindi è importante perseverare, è importante conservarsi nella grazia. Questo è il primo passo, molto difficile mi rendo conto, della santità. Però non impossibile. Il Concilio di Trento insegna infallibilmente che l'uomo può già in questa vita vivere senza peccare mortalmente. Quindi è possibile. E del resto lo stesso Vangelo, lo stesso Gesù ce lo dice, ce lo raccomanda. Siate perfetti come perfetto è il Padre vostro. Certo, in questa condizione di viatori in cui ci troviamo, in questa valle di lacrime, non possiamo però fare a meno di peccare venialmente. Il peccato veniale è inevitabile, insegna il Concilio di Trento. E anche la scrittura, da qualche parte, dice il giusto pecca sette volte al giorno, proprio per evidenziare questa natura corrotta, ahimè. Siamo corrotti dal peccato originale. Però ecco, con la grazia di Dio possiamo non peccare mortalmente. E in effetti anche nella storia della Chiesa è pieno di santi che sono riusciti a raggiungere questo obiettivo. Penso a Santo Masso d'Aquino, penso a San Domenico Savio, penso a San Luigi Gonzaga e a tanti altri. Bene, allora, cosa sono le beatitudini? Quando lo Spirito Santo dimora stabilmente nella nostra anima, ecco che, come ospite illustre, come farebbe ogni ospite illustre che invitiamo sotto il nostro tetto, anche lo Spirito Santo, quando viene accolto e bene invitato, bene accetto nella nostra anima, porta anche lui dei doni. Questi doni sono appunto quei sette doni che la teologia classica tradizione alle chiama sette doni dello Spirito Santo. I sette doni dello Spirito Santo sono sette virtù infuse direttamente da Dio nella nostra anima. Quindi, a differenza delle quattro virtù cosiddette cardinali, cioè prudenza, portezza, giustizia e temperanza, a differenza di queste virtù che possiamo raggiungere con i nostri soli sforzi naturali, tant'è che anche i pagani, tanti pagani avevano capito dell'esistenza e della necessità di raggiungere, di ottenere, di esercitare le quattro virtù cardinali, i sette doni sono virtù infuse, cioè solo Dio può metterle direttamente nella nostra anima. E a cosa servono queste sette virtù? Servono per sostenere e perfezionare in maniera naturale le sette virtù, diciamo così, di base, che costituiscono il primo piano della nostra anima, del nostro perfezionamento, il primo livello che è composto dalle quattro virtù cardinali che abbiamo già elencato, più le tre virtù teologali, anche queste che sono dono di Dio, per questo motivo si chiamano teologali, ossia la fede, la speranza e la carità. I sette doni dello Spirito Santo, invece, si chiamano tradizionalmente, sono sapienza, intelletto, scienza, consiglio, fortezza, pietà e timor di Dio. Ora, secondo l'esegesi tradizionale e autorevole dei grandi padri e dottori della Chiesa, a cominciare da Sant'Agostino, ma penso anche a Sant'Omaso d'Aquino, che si fa, in questo caso, un po' l'eco di Sant'Agostino, secondo l'autorevole esegesi di questi padri e di questi dottori, Gesù nel Vangelo ci insegna, e lo vediamo chiaramente, a chiedere a Dio il dono dello Spirito Santo. E per questo motivo Gesù insegna ai suoi discepoli la preghiera del Padre Nostro, che se ben vedete il Padre Nostro è un elenco di sette preghiere, di sette invocazioni, proprio per chiedere i sette doni dello Spirito Santo. E cosa sono le beatitudini, le otto beatitudini che abbiamo ascoltato oggi? Le beatitudini sono un po' la carta d'identità, il segno distintivo del cristiano che vive nella tantità. Se vedete la forma con cui sono scritte le beatitudini, rappresentano, indicano il merito e il premio. Per esempio, la prima beatitudine dice Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli, Beati i poveri in spirito è il merito che il santo ha dinanzi agli occhi di Dio, quindi l'essere povero in spirito. E poi dice Gesù, elenca il premio, perché di essi sarà il regno dei cieli. E così per tutte le beatitudini, che sono, in realtà, sono sette più uno, quindi sette, tanto quanto sono i doni dello Spirito Santo, più uno, cioè la beatitudine finale, che è un po' la beatitudine che riepiloga ciò che è comune a tutti gli altri sette doni, e ciò è l'ultima, quindi è da questa che dobbiamo partire un po' per comprendere. Cioè l'ultima beatitudine dice Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Questa ottava beatitudine è quella che le riepiloga tutte, cioè sta dicendo qual è il merito della santità, che cosa avrete in cambio. In cambio in questa vita avrete l'odio da parte del mondo, alla persecuzione da parte del mondo. Ma Gesù ci invita alla perseveranza, questa virtù importantissima per il cristiano, per poter raggiungere la santità. E l'esercizio della perseveranza avrà come premio lo stesso paradiso, la grande ricompensa nei cieli. Ma vediamo velocemente allora a cosa si riferiscono invece le sette beatitudini precedenti. Beh, la prima beatitudine si rifà a quel particolare dono che sostiene, perfeziona la virtù della speranza. Ed è il dono del timore di Dio. Il timore di Dio si applica sulla virtù teologale della speranza. Il timore di Dio rende poveri in spirito. Cosa vuol dire poveri in spirito? Poveri di quei desideri fallaci, di quei desideri mondani, ma ricchi di desideri celesti. Ecco, questo è il merito. E il timore di Dio ci fa vivere il regno di Dio già su questa terra. Ecco il premio promesso. Infatti, se notate, se tutte le altre beatitudini, in tutte le altre beatitudini, Gesù usa il verbo al futuro, beati gli afflitti perché saranno consolati, i miti erediteranno la terra, eccetera, questa beatitudine invece ha il verbo al presente. Beati i poveri in spirito perché di essi è il regno dei cieli, è ora in questa vita il regno dei cieli. Poi andiamo avanti. La seconda beatitudine si rifà al dono della fortezza, che, come è intuibile, si applica sulla virtù cardinale della fortezza, che è quella virtù che ci spinge a resistere alle prove di questa vita. E questa virtù rende miti. La mitezza è il merito di chi esercita la fortezza e di chi viene sostenuto dallo Spirito Santo nell'essere forti. Chi è forte è anche mite, è mansueto, affronta con calma le difficoltà, gli ostacoli della vita presente. E il premio è quella di essere eredi del mondo futuro, coeredi di Cristo, come dice San Paolo. Poi ancora, la fede è la virtù che viene rafforzata non da uno, ma da ben due doni dello Spirito Santo. e uno di questi doni è il dono della scienza. Il dono della scienza che ci permette di avere una visione, diciamo così, completa della verità rivelata da Dio. E in questa beatitudine leggiamo Beati voi che siete nel pianto. Il dono della scienza dà proprio questo come merito, quello di essere nel pianto. E che cosa significa? Cioè dà la capacità, diciamo così, di soffrire quando si assiste al tanto male, ai tanti peccati, che l'umanità per ignoranza, per ingratitudine o per malizia commette. E questa capacità di soffrire per il peccato consola il cuore di Gesù. E il premio è quello di essere consolati a nostra volta niente meno che dallo stesso Dio. Nella beatitudine successiva vediamo il dono, la beatitudine corrispondente al dono soprannaturale della pietà. Il dono dello Spirito Santo che prende il nome di pietà sostiene la virtù cardinale della giustizia. E che cosa è la pietà? La pietà è la sottomissione volontaria e arrendevole alla volontà di Dio che come un sole interiore diciamo così diffonde i propri raggi nella nostra anima e ci rende desiderosi della giustizia in ogni ambito. Ecco perché questa beatitudine dice beati voi che siete affamati e assetati di giustizia. Cioè siamo desiderosi, i santi sono desiderosi di giustizia in ogni ambito e questo desiderio è un merito agli occhi di Dio e tale desiderio sarà soddisfatto solo da colui che è la somma giustizia. Cioè dallo stesso Dio dallo stesso Cristo Gesù questo è il premio promesso. Andiamo ancora avanti l'altra beatitudine beati i misericordiosi perché troveranno misericordia. Il consiglio è il dono dello Spirito Santo che si applica sulla prudenza. Cioè lo stesso Dio ci consiglia circa le buone azioni da compiere, ci dà le giuste ispirazioni e tutte le ispirazioni di Dio sono accomunate, hanno come comune denominatore la misericordia, la regola della misericordia, agire con il nostro prossimo secondo questa regola e questo è il merito, il merito, essere misericordiosi e ancora una volta è il premio e speculare beati i misericordiosi perché il premio sarà quello di ottenere a propria volta da Dio misericordia. Andiamo avanti l'altra beatitudine dice beati i puri di cuore perché vedranno Dio. Bellissima questa beatitudine e si rifà all'altro dono che si applica sulla fede ossia il dono dello spirito santo che prende il nome di intelletto. Che cos'è l'intelletto? Come suggerisce la parola stessa è ciò che ci fa intuire cioè penetrare nelle verità divine. I puri di cuore il cuore lo ricordiamo nel linguaggio della sacra scrittura non è l'amore non è l'affetto è la volontà. I puri di cuore sono coloro che non hanno l'anima offuscata dalle lenti corrotte del peccato hanno un cuore puro e in questo modo non avendo le lenti offuscate vedono con immediatezza la verità così come essa è. E quindi ecco perché la beatitudine indica questa beatitudine indica come premio vedranno Dio cioè il dono dell'intelletto ci fa vedere Dio è la somma verità qui vedere significa proprio comprendere nella sua pienezza andiamo avanti con la prossima beatitudine beati gli operatori di pace perché saranno chiamati figli di Dio e qui il dono di riferimento è il dono della sapienza che è quel dono che rafforza rafforza la carità la virtù più importante di tutte che è la stessa grazia e la sapienza ci rende operatori di pace nel Vangelo la parola pace non ha un significato sociologico come spesso viene data cioè ma anche per gli antichi per i medievali la pace è una cosa distinta dalla concordia la concordia è l'armonia tra i popoli tra le famiglie tra le persone la pace invece è qualcosa di intimo la pace è non sentire turbamento interiore chi vive nella carità e chi vive nella sapienza soprannaturale donata dallo Spirito Santo opera nella pace quindi è in pace chi opera ma rende in pace dona la pace anche a coloro che ricevono le nostre azioni che sono oggetto delle nostre azioni ecco cosa significa operatori di pace e chi è operatore di pace quindi chi vive nella carità e nella sapienza divina sarà chiamato figlio di Dio cioè questo dono rende immagine autentica del figlio di Dio ricordate nella Genesi quando Dio crea l'uomo ti dice Dio creò l'uomo a propria immagine e somiglianza l'immagine di Dio rimane che la libertà e la volontà è un intelletto ma la somiglianza con Dio viene meno con il peccato chi vive nella grazia chi vive nella carità chi vive nella sapienza che scende dal cielo riacquista la somiglianza piena con il figlio di Dio re di pace figlio di Dio che è la quindi a immagine e somiglianza di Cristo Gesù quale premio più bello ecco queste sono le beatitudini queste sono le beatitudini e vi invito allora ancora una volta a acquistare se non l'avete già fatto il messale festivo tradizionale su Morum Pontificum dal nostro sito www.fedecultura.com e a sostenere il nostro apostolato acquistando direttamente dal nostro e-commerce e non presso i grandi centri di distribuzione vi ricordo che se visitate il nostro sito www.com e cliccate nel menu di applicazione in alto il catalogo vedete che sotto la sezione spiritualità c'è una sottosezione interamente dedicata ai santi del nostro catalogo veramente tantissimi titoli che sono ispirati e che ci parlano delle grandi figure di santità della venerati dalla nostra chiesa grazie come sempre per la vostra attenzione e ci vediamo questo sabato per il nuovo appuntamento della lettura e commento settimanale alla parola di Dio proclamata durante la messa straordinaria del rito nella forma straordinaria del rito romano grazie e ancora buona festa di ogni santi a tutti voi e tanti auguri di santità a presto grazie a tutti Grazie a tutti.